buongiorno amici venerdì 22 marzo 2024 allora quasi una settimana di sosta ce la siamo tolta ieri ha giocato pure l'italia ma prima di parlare degli argomenti del giorno quello che ci tengo a dirvi è mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi attivate la campanella mettete mi piace commentate i miei video ditemi cosa ne pensate chi mi segue da tempo sa che cerco di rispondere a tutti voi quindi mi raccomando a voi non costa nulla per me fa tutta la differenza del mondo iscrivetevi al canale aiutatemi a far crescere la mia community detto questo partiamo subito con le notizie del giorno allora come sapete i più attenti avranno notato ieri c'è stata una diretta instagram di mediaset con francesco totti e ovviamente si è tornato sugli argomenti principali che sono usciti fuori in settimana ma che sono quelli del suo eventuale ritorno alla roma e quello della sua opinione rilasciata su di bala totti ha fatto un po di chiarezza e credo che abbia fatto bene a mio modo di vedere perché il non vengo mai più alla roma comunque a me mi aveva veramente gelato il sangue e credo a tanti altri tifosi della roma come me però ci ha spiegato il motivo e cioè secondo lui i fridti non lo vogliono non lo vogliono che era quello un po o non lo vogliono o comunque non gli vogliono dare il ruolo che lui pretende giustamente e sappiamo no francesco l'abbiamo detto francesco totti non vuole fare bella statuina a roma non vuole fare l'homo copertina non vuole fare trofeo da portare in giro per l'europa nelle varie nelle varie diciamo situazioni istituzionali tra virgolette vuole un ruolo chiave vuole un ruolo operativo vuole dire la sua per quanto riguarda le scelte tecniche quindi aiutare la società a sviluppare il suo parco giocatori e migliorarlo a livello tecnico e questo evidentemente qualcuno alla roma non lo vuole ora non so se i fridkin sicuramente magari sono stati consigliati male certo è che fatta una rapida equazione totti alla roma farebbe ombra parecchi farebbe ombra parecchi per lo spessore del personaggio di quello che è stato da calciatore fenomeno assoluto ripeto il giocatore più grande che ha avuto la roma nella sua storia quindi è ovvio che un totti all'olimpico avrebbe 100 telecamere per lui e magari si inquadrerebbero meno l'ina sologu i vari dan ryan eccetera e questo magari un proprietario no un proprietario gli è poi roter chiccherone ma questa è un'ipotesi da pettegolezzo secondo me secondo me la realtà che c'è qualcuno all'interno della roma che che spiega i fatti che i fridkin non possono conoscere perché ripeto ripeto vengono dal texas ma che cacchio ne sanno dalla maglietta vi ho purgato ancora piuttosto che che ne so di quando sei infortunato che vanigli ha rotto una cavia leader che ha dovuto far pannare mondiale con tutta una gamba sola ci ha fatto vincere lui perché si portava via d'uomi quindi ma che ne sanno i fridkin di questo non lo possono sapere come non possono sapere che tipo di persona è francesco perché ci hanno avuto tutte chiacchiere ecco in occasioni dei finali tutte chiacchiere così i pranzetti volanti non ci hanno avuto un vero e proprio confronto quindi per ora se sono fidati dei loro collaboratori e suggeritori che gli dicono che totti e magari a livello mediatico può portare secondo loro problemi secondo me può portare solo soluzioni uno come totti all'interno da roma già l'ho detto per la sua conoscenza tecnica tecnica certo non è un grandissimo oratore a livello anche se è migliorato tanto a me ieri mi è piaciuto molto su media settimana ricordo le interviste da calciatore era era un po impacciato francesco quando doveva parlare ai microfoni invece con la maturità insomma ormai va per i 50 anni mi sembra molto più a suo agio nelle interviste esprime concetti chiari quindi e voglio dire ha superato pure questa questa cosa del lato mediatico no dell'intervista cosa che invece a De Rossi è venuta bene sin da vent'anni ma quello ragazzi è una questione di carattere De Rossi ad esempio parla anche inglese francesco presumo di no se l'ho conosciuto un po insomma in questi anni però è una cosa a cui se può ovviare nel senso se fa un corso d'inglese anche perché volevo dirla tutta ci stanno tanti giocatori a roma che non parlano italiano come sbolling e karsdorp che so 5 7 anni che stanno qua e non parlano italiano bisognerebbe vederla pure al contrario perché fino a prova contraria stiamo in Italia stiamo in Italia pur i post da roma continuamente in inglese ma la maggior parte dei tifosi sta in Italia io capisco che alcuni social non hanno l'opzione come facebook no di poterlo postare in più lingue però è fastidioso continuare a vedere post della roma in inglese continuamente quasi dappertutto e su twitter ci stanno più account questo è un problema poco che devono risolvere i social media secondo me per i brand internazionali perché non se poi ci stanno poi certe traduzioni ragazzi se la roma decide di scrivere in inglese è andata per vedere traduzioni ma la stessa serie a tutti gli account ufficiali dei campionati delle squadre insomma le traduzioni fanno veramente ride perché è logico c'è un modo di esprimersi in inglese e soprattutto in america no già tra inghilterra america c'è un modo di espressione un modo di scrivere e di parlare diverso figuriamo se con l'italiano che è un'altra lingua oppure spagnolo piuttosto che il portoghese quindi questa è una cosa che dono migliore ai social ma al di là di questo insomma io ritengo che che totti non non venga considerato in questo momento sia per il ruolo che lui vuole ricoprire e soprattutto per l'ombra che potrebbe fare a tante persone alla roma che questo non lo vogliono perché vogliono che alla roma ci sia anche la loro luce non vogliono essere oscurati la vogliono sfruttare sta cosa e quindi non vogliono da totti la conclusione mia è questa poi mi sbaglierò ditemelo nei commenti l'altra cosa che di cui gli è stato chiesto ieri a mediaset è stato proprio del del commento che ha fatto di diballa lui ha detto io non so il dirigente di nessuna squadra parlo da tifoso e dico quello che voglio come lo dicono tutti i tifosi cioè anche quelli come me come asso de roma come gabbo come come si quolf no come la andrea d'atana del blanco noi tifosi che parliamo sui social che facciamo questi video esprimiamo la nostra opinione perché viviamo in una democrazia lo possiamo fare possiamo dire come la pensiamo ovviamente senza offendere nessuno e totti ha detto io ho fatto la stessa cosa poi mi hanno detto se fossi dirigente e ho risposto se fossi dirigente vista la quantità di partite che gioca ci penserei perché logicamente è un costo è un costo che i dirigenti ragazzi ci devono far conto ci devono far conto tutti i dirigenti ma pure dell'inter da io e del milan ci devono far conto se è un giocatore pure le ha che gli costano a cifra il milan e il milan si arriva in offerta secondo me non è che ci pensa tanto perché è un giocatore fortissimo per carità ma discontinuo da morì discontinuo da morì quest'anno ditemele au quante prestazioni top ha fatto due tre ditemo voi mo sicuramente che ho dette farà caro ma però non mi sembra io ho vista qualche partita in mia non mi sembra un giocatore mi pare via 11 12 milioni d'euro che varga quello l'ingaggio che gli è sposta così tanto al milan non mi sembra quindi totti ha fatto un ragionamento giusto mettendosi nei panni del dirigente dice sì di bala sì è top tutto quanto ma me gioca 15 partite ci penso perché devo capire no spesa resa cioè spenno questo quanto me rende che me porta perché se io te do da 6 milioni me fai sì 10 15 go ma poi me manchi nei momenti chiave dalla stagione io non riesco non riesco a vincere le coppe non riesco a vincere arriva in champions league se è stato solo un costo non ha messo in discussione la classe di di bala ma quello che è il suo apporto nell'arco della stagione ha fatto ragionamento da dirigente come gli era stato chiesto non ci dimentichiamo che nella finale budapest di bala ci porta in vantaggio da fuori classe qual è trova lo spazio e mancini gli fanno assist al bacio poi dopo di bala deve sci e paro ma è un problema perché se di bala avesse giocato anche tutto il resto della partita i supplementari e soprattutto magari se fosse presentato sul dischetto e magari adesso diciamo una coppa più un bacheca quindi il ragionamento che fa totti non è sbagliato e ci penserei poi è ovvio che tutti lo volemo tenere di bala a partire proprio da totti quindi questo secondo me totti ha fatto chiarezza ha chiarito bene ma chi può capire capisca chi non capisce ha una ripetizione perché vuol dire che non capisci l'italiano perché voglio dire più chiaro di così totti non poteva essere altro discorso è il ds ragazzi il ds che ne abbiamo parlato in alcune live no io dissi il ds non viene annunciato perché il ds che vola a roma impegnato e arrivano conferme perché sembra che lina soloku sia stata a cena con gagliani al centro di roma accompagnata dall'avvocato che cura gli affari della roma e questo voglio dire è emblematico no significa qualcosa la soloku a cena con gagliani a roma con l'avvocato stanno a trattare o giocatore o françois modesto che è ex giocatore del cagliari c'ha 45 anni ora ds del monza ma già ds dell'olimpiacos olimpiacos ex squadra anche della soloku quindi già hanno lavorato insieme quindi in questo momento il ds ragazzi è stato scelto è modesto 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 come si dice se si chiama françois presumo modesto di solito in francia e danno questi accenti quindi è scelto modesto come ds ora stanno lavorando la roma col monza stanno capendo come trovare un accordo perché evidentemente il contratto di modesto è più lungo no è come quello che ci aveva aggiunto lì con napoli che ha chiesto di essere liberato vanno a juve quindi più o meno sarà la stessa cosa in questo caso se ne sta occupando direttamente la roma e c'è stato questo incontro quindi è molto probabile che il primo luglio modesto sbarchi a roma vediamo come si accorderanno le società la roma magari e non lo so gli darà in cambio sui giovani gli darà un milione d'euro dei rischi di penale sul contratto io non lo so quello che faranno certo il mercato di ds è molto più come dire gli ingaggi sono da mezzo milione d'euro al massimo in una squadra come la roma armonza penso che prenda la metà più o meno quindi non credo che ci sarà un grossissimo riscatto però comunque un'operazione finanziaria che a roma deve mettere a budget e a conto quindi però questa è una notizia buona vuol dire che la roma non sta a dormire sul ds ma era come pensavo io che quello che è stato scelto è impegnato in questo momento non se può annunciare e non se può inserire a roma ma ciò non toglie che accordarsi con l'altra società vuol dire che insomma il lavoro che verrà fatto verrà fatto insomma sottotraccia per entrambe le società come avviene senza che se scandalizziamo come avviene dei anni o fece uno di prima a farlo fu oggi quando stava a roma dei sensi che già lavorava paio e che prese paolo sosa io invece caro ma quindi chi c'è da mia su ricorda questo riguardo invece la rosa insomma dicevamo la roma tornerà in campo lunedì primo aprile quindi oggi è il 23 ragazzi ancora o no più sì 89 giorni a lecce e arrivano i primi problemi dai nazionali perché a smon e baldanzi tutte e due baldanzi proprio non è sceso in campo ci hanno fastidio come pare pure lui all'aduttore ha lasciato addirittura al ritiro quindi le cure affidate subito alla roma non l'hanno voluto rischiare in under 21 che se non sbaglio il ct è enunziata quindi baldanzi torna a smon invece ha giocato con l'iran ha pure segnato però dopo si è fatto male è uscito lacrime quindi è preoccupante la situazione da smon che nel momento in cui che se fa male pure baldanzi che però sembra più un affaticamento e bram è rientrato mo in panchina solo al livello come posso dire scena per piazza applauso ma in realtà non è pronto se parla della sua convocazione per derby quindi in altro paio di settimane di preparazione a lecce non andrà resterà a roma a lavorare a roma non c'è la riserva di lucaco non c'è il sostituto di lucaco che è vero che anche lui sembra che non ci siano grossi problemi perché pure lui col belgio belgio sta lì ma non giocherà però insomma c'ha degli affaticamenti ce l'ha pure lucaco quindi adesso la situazione con baldanzi pure fuori cortretutto fa un altro ruolo la situazione è pesante considerata anche la situazione di bala che io mi auguro che queste due settimane a roma lo aiutino a recuperare no da da questo da questo affaticamento che gli possano permettere di giocare due gare fondamentali per la stagione che so il derby a doppia sfida col milan che so la chiave di volta della stagione poi ci sarà pure bologna e napoli a aprile l'abbiamo visto il calendario l'ho postato nella community insomma la roma ci avrà un calendario decisivo perché poi maggio è l'ultimo mese ma riuscire a fare ottimi risultati a passare il turno in europa league vincere il derby per la classifica per il morale per i tifosi e fare risultati buoni con napoli e bologna soprattutto col bologna che ti sta davanti insomma potrebbe cambiare la stagione a roma potrebbe cambiare la stagione perché l'obiettivo è sia andare avanti in europa league ma anche quest'anno andavanti pure in campionato non fa come lo scorso che a un certo punto eravamo quarti e poi siamo crollati quindi questo è l'obiettivo e speriamo speriamo insomma che anche a smoon sia più come dire più preoccupazione che il reale e reale infortunio reale fastidio dobbiamo sperarlo perché ripeto luca cutibala smoon baldanzi ragazzi in sciamoppia attacca rimasta il sharawi e bram non è pronto altra cosa smolling smolling sembra che voglia l'inter a me mi viene da ride e cioè l'inter vuole un giocatore che non gioca mai ma magari ce ne hanno dei contratto ma magari ce lo pagano pure il milione ci guadagniamo non lo so penso 7 8 milioni tra ingaggio il milione che ce pagano loro ed a se ce paga roma c'è una botta sul bilancio paurosa magari ce cascano io direi perché tanto smolling ormai secondo me la sua avventura a roma è finita la difesa 3 se userà raramente l'abbiamo visto un modulo che rigetta proprio la squadra e lui a 4 non è lo stesso giocatore non protetto dai braccetti non c'ha la stessa importanza e non c'ha la stessa la stessa giocata quindi diventa un giocatore normalissimo e se può cambia un modulo per fare un giocatore un modulo oltretutto che sta a funzionare quindi ben venga che l'inter si è vista sola da smolling ma magari vediamo vediamo vabbè ragazzi io vi auguro buona giornata e vi ricordo next questa sera 19 con andrea parliamo di come sarà da qui alla fine del campionato non essendoci partite di serie a l'italia essendoci amichevole che lasciano il tempo che trovano questa sessione non ne parliamo l'italia ci dedicheremo bene a giugno a luglio all'italia stasera parliamo del campionato a bocce ferme com'è e come sarà cioè quello che secondo noi potrà accadere nelle varie cose ancora aperte quindi lotta champions lotta europa league lotta per non retrocedere ne discuteremo insieme a voi quindi siete invitati ore 19 mi raccomando live next con me e andrea un bacio e a questa sera ciao